La primavera è finalmente arrivata e con essa le rondini. Questi magnifici uccelli migrano migliaia di chilometri per giungere nei nostri centri abitati e nelle nostre cascine e nidificare. È il momento di accoglierle a braccia aperte perché, come si suol dire, una rondine fa primavera. Ma le rondini non sono solo una gioia per gli occhi, sono anche estremamente utili all'uomo. Sapevi che una sola rondine può mangiare fino a 170 grammi di insetti al giorno? E che il 90% di questi insetti sono mosche, zanzare e chironomidi? Si tratta di insetti fastidiosi e spesso nocivi, ma grazie alle rondini possiamo limitarne la presenza nei nostri spazi abitativi. Inoltre, le rondini catturano gli insetti a meno di 200 metri di distanza dal loro nido, il che significa che avere una coppia di rondini che nidifica vicino a casa propria può essere un modo altamente efficace per liberarsi di questi fastidiosi insetti. Addio Zampironi, benvenute rondini!